Allora, qua abbiamo il presepio che ha fatto Francesco Lo Iaccono nella chiesa di Santa Maria Mater Domini a Venezia. Qua si vede Gesù, Maria e tutto il filaggio che ci sarebbe stato a quel tempo. Ci sono le persone che muovono, che bevono, che mangiano e che fanno lavori che farebbero tutte le persone a questo periodo. Ci sono le luci che brillano e anche le stelle, alla fine. È veramente bello ciò che ha fatto perché, nella mia opinione, va per la pace che ci potrebbe essere in una comunità così bella a questo periodo. Ecco, presento che là, per esempio, fa il pane. E qua, sopra, ci sono i bambini che giocano e gli agnelli che saltano. C'è l'acqua che scorre e le luci che brillano. È veramente un lavoro fatto con pazienza e con amore e con molta abilità. Questo presepio è fatto a mano, infatti, ed era molto difficile, scommetto da fare. Adesso, con tutto, vorrei dire che è veramente un artista bravo, con l'unico di nostro adesso, il signor Francesco Lola, il mio Giacomo. Ecco, allora io ringrazio tantissimo il mio carissimo amico Leo per questa bellissima presentazione del mio presepio e auguro a tutti voi, a tutta l'Italia, a tutto il paese, a tutti i parenti, ai miei amici lontani, a tutti gli artisti del mondo che costruiscono presepi e un santo e buon Natale, un Natale di pace e di santità. Grazie. E grazie a te. Grazie a tutti.